La Notte della Tempesta edizione 2013 è rivolta per il terzo anno consecutivo dalla prima volta, ovvero tre anni fa. Il Teatro degli Orrori ha suonato, non ha suonato da poco. Pierpaolo qua con noi, complimenti, un gran concerto, c'eravate mancati. Ci siamo divertiti, è stato bello suonare questa sera, è stato proprio uno di quei concerti. Io non mi ricordo, difficilmente ricordo i concerti che faccio in giro, un po' perché ne fai tanti, un po' perché poi diventa un po' una routine, però quelle rivolta non so perché, ma in un modo o in un altro me le ricordo tutti. Discutevamo prima, il pubblico di casa è sempre quello più caldo, no? Di solito. Ma non credo che sia una questione di casa o trasferta, ecco, non c'è una tifoseria in realtà, o forse c'è, ma non c'è qui. Diciamo che questo posto ci porta fortuna. Bene, ne siamo contenti, contentissimi. Piccola indiscrezione sul futuro del Teatro degli Orrori, quando dovremo aspettare ancora più o meno per rivedervi? Bella domanda, è una domanda a cui non so darti risposta in questo momento, però stiamo già lavorando ad un nuovo repertorio, quindi abbiamo voglia di fare un disco e vediamo che succede. Poi ultimamente io stavo pensando una cosa che secondo me tu forse potresti darmi una spiegazione così, sai, frequentando comunque l'ambiente della musica indipendente, quello che portiamo qua a rappresentare, cioè, forse ho visto io personalmente, magari mi sbaglio, però c'è questa tendenza a muoversi verso una lingua diversa, l'inglese principalmente. Mi pare che un po' l'italiano venga snobbato, lo chiedo a te perché voi fate del messaggio. Adesso dici? Sì, in tanti gruppi giovani, tra i giovani, lo chiedo a te perché voi comunque fate del messaggio che, insomma, portate un messaggio nella canzone. Sì, poi peraltro ho fatto cinque dischi in inglese con One Dimensional Man, ecco, quindi ho una carriera un po' più lunga che semplicemente quella della super gavetta. Ancora meglio, così puoi darmi proprio i due punti di vista. Ma sì, ma io penso che l'inglese sia una mediazione tra ciò che vuoi dire e ciò che dirai, quindi diventa quasi un po' un travestimento semantico, se vogliamo. Io sconsiglio a tutti coloro che hanno voglia di fare band, di fare musica, di cantare in inglese. Perché? Troppa esterofilia, forse. Anglofilia, direi, in questa casa. È chiaro che l'inglese è la lingua del rock, ma qua non lo parla nessuno l'inglese, la gente non ti capisce. Io mi sono reso conto, dopo tanti concerti, dopo tanti discos con One Dimensional Man, e anche dopo delle belle esperienze, gratificanti, grandi soddisfazioni, perché sono state una band di quelle belle tostice, qualcuno si ricorda di noi. Però ho scoperto con il teatro degli orrori che nel momento in cui canti in italiano, chissà come mai il pubblico, chi viene ad ascoltarti, capisce le canzoni. Cioè comprende quello che stai dicendo loro. È lì che poi nasce l'amore per una canzone. No? Perché se non ne comprendi il testo, può piacerti la musica, dici che fighi questi, spaccano tutto. Però in realtà nel momento in cui comprendi il testo, tutto diventa più profondo, più bello, più godibile. Forse anche magari si dà più qualità al prodotto locale, cioè nel senso, valutiamo quello che sappiamo fare. Noi, l'italiano, come musicisti, come poeti, produttori di cultura e contenuto. Dicevo, ovviamente preferendo l'italiano, si tende forse comunque a portare ulteriore valore a quello che già c'è, no? Perché voglio dire, ad esempio, immagino con E colpa mia, citando una canzone vostra, oppure con tante altre, avete parlato di temi comunque scottanti, interessanti, importanti. La gente che vi ascoltava, io in primis, ha riflettuto sulle parole. Certo che avete riflettuto sulla parola, se l'avessimo fatta in inglese, quella canzone non avrebbe ottenuto in nessun modo quel bel risultato lì, che è quello di far riflettere le persone. Quando una canzone ti fa riflettere e non ti intrattiene e basta durante la giornata, vuol dire che è una buona canzone. Perfetto, era proprio quello che volevo sentirmi dire. Ultima domanda, stiamo vivendo forse un momento di grande cambiamento di movimento in cui le cose non sono così ben chiare. Com'è il vivere da musicista? Come te lo vedi? In base anche alla tua esperienza vissuta e pluriennale, no? Tutta la gaveta che avete fatto anche prima. Beh, io ho sempre lavorato nella vita, sono un professionista della musica da non più di quattro anni, ecco, ma un professionista nella misura in cui, non so, arrivi alla fine del mese, ecco. E già mi sento una persona, un uomo felice e realizzato in questo perché è gratificante poter dire la musica è il mio lavoro, ma oggi i dischi non si vendono più. Se vuoi vivere di musica devi fare tanti concerti. Fare tanti concerti non è facile, soprattutto per gli esordienti. È un momento molto difficile per la musica indipendente in Italia oggi. Effettivamente non è proprio così un momento appunto bello, facile, però ci sono cose come la tempesta che grazie all'impegno di tutti fanno bene. Fanno ben sperare, assolutamente. Questo è l'esempio di ciò che abbiamo visto oggi, tutta la partecipazione. Pierpaolo ti ringrazio tanto. Grazie a te, grazie a voi tutti. Dalla Sherwood Web TV questo è tutto, un applauso per Pierpaolo. Ciao ragazzi. Grazie.